Poco ma... Se la calamita non è forte, ti si spiega a sciarci Ma qui sono il timone che ha un pochino di forte Ma se la calamita è forte che prende... Ce l'ha intorno a basso? Che trova? Ehi... che torna per l'attelazione ... ... ... ... ... ... Grazie. Grazie.